San Pietro Guaglianone, 90 minuti di sofferenza ma l'attesa promozione è arrivata. Sì, finalmente, è una partita sofferta ma vinta, meritatamente, adesso siamo in eccellenza, possiamo festeggiare. Un momento importante che è per la città di Saronno e per lo sport saronnese. Sì, lo aspettavamo da tanto tempo, finalmente siamo saliti di categoria e ringrazio anche tutti i tifosi che erano qui oggi.